Cadere da cavallo può capitare a tutti, soprattutto se si fanno brutte cadute. E poi può capitare anche per i più grandi, che possono rimanere staffati, cioè il piede può rimanere nella staffa. A causa di questa rischia hanno inventato le staffe di sicurezza, che evitano di far rimanere il piede incastrato nella staffa in caso di caduta. E infatti l'argomento di oggi sono appunto le staffe di sicurezza. La staffa è un anello che infonda il piatto e può essere sia di metallo sia di gomma. Le staffe pensano nella sella e fanno in modo che il cavaliere rimanga più comodo quando monta. Lo sapevate che la staffa è stata inventata in India nel 500 d.C.? Poi arrivò in Europa circa nel Medioevo. Ci sono vari tipi di staffe di sicurezza. Adesso ne vediamo alcune con Sofia l'istruttrice. Queste qua sono le staffe che si usano quando si lavora con i bambini piccoli e quindi si usano nel ludico e sono obbligatorie quando si montano i poni, quelli di categoria A, quindi gli sceltano dei poni piccoli, in modo che il piede del bambino non si incastra nella staffa. Avendo questa gabbia qua davanti il piede si sfila, in caso di caduta il piede si sfila. Queste staffe sono per i bambini piccoli che devono ancora imparare a mettere bene il piede nella staffa. Invece io ho iniziato con le staffe con l'elastico. Questa qua è la staffa di sicurezza più conosciuta, perché è classica, è aperta su un lato e viene poi applicato questo elastico, che ovviamente quando si perde o si rompe e si può cambiare. E questo elastico serve appunto se in caso di caduta salta via subito. Se il piede fa un po' di resistenza contro l'elastico, l'elastico salta subito e così il piede si sfila facilmente dalla staffa. Una staffa molto interessante è quella con la calamita. Nel lavoro quotidiano e anche per le gare così credo che sia una delle staffe migliori perché è sicura, in quanto è di sicurezza e quindi si apre e poi non avendo l'elastico che rischia di rompersi a metà percorso, è meglio, permette un lavoro migliore. Ma come funziona in caso di caduta? In caso di caduta fa la stessa cosa dell'elastico, solo che invece che perderlo questa poi torna, una volta che il piede si è sfilato, questa torna a posto. E non devi cambiare niente, nessuna parte. Ha una molla qua sotto e una calamita qua in alto che permette poi, la molla la rispinge a posto e la calamita la ferma. Ovviamente se il piede fa pressione qua, si apre. Ma non è solo interessante perché ha la calamita, ma è anche molto interessante per... Una cosa molto comoda di queste staffe è anche la panca della staffa che è il punto dove si appoggia il piede perché avendo questa conformazione qua ferma bene il piede quindi evita che ti scivole via, anche se hai la suola bagnata o quel fango, rimane abbastanza... Fa abbastanza presa sulla panca della staffa. Questo perché non è la panca in gomma, ma la panca in metallo. Cioè il piede è fermo nella staffa. Però c'è anche un'altra staffa, la staffa in gomma. Non è molto di sicurezza, però facilita il piede per quando, in caso di caduta, riesce di più a scivolare. Questo qui è un altro tipo di staffa che segue un pochettino di più l'appoggio del piede. Siccome si piega leggermente, segue un pochettino di più la pressione che viene scaricata dal piede del cavaliere. È meno di sicurezza, anche se comunque muovendosi un pochino facilita l'uscita, ma non come le altre. Ovviamente se il piede ti si incastra, un po' si piega e quindi tende a scivolare via. Però non è di sicurezza come l'altra che si apre. Avete visto quanti tipi di staffe? Se vi è piaciuto questo video, mettete un po' di join in su. E iscrivetevi al canale e guardate gli altri video. Ciao! E iscriviti al canale e guardatevi al canale e guardatevi al canale. Grazie! Grazie!